Ciao a tutti, oggi prepariamo questo fantastico cheese quindi vediamo l'ingrediente e come possiamo farlo Useremo 2 litri di milano fresco 200 ml di crema di ripieno half yogurt 1 teaspoon di rennet che metterò in un piccolo glasso di acqua salto e l'ingrediente di acqua naturale che abbiamo realizzato prendendo una bluza di cheese e mettendole in l'ingrediente ora vi mostrerò 1 litri di grigio 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 2 litri di grigio migliori 2 litri di grigio Lo copiamo con il filo e aspettiamo 30 minuti. Durante questo tempo possiamo preparare il rennet mettendolo separato. Dopo 30 minuti mettiamo il nostro pote sul filo, sul potere minimo e arriviamo a 38 gradi. Aggiungiamo 38 gradi, rinnoviamo dal filo e aggiungiamo il rennet. Dopo aver mixato molto potente e lo copriamo con il filo e con qualche materiale perché dovremmo mantenere la stessa temperatura 38 gradi per un'ora senza toccare il pote senza rinnovare la stessa in un'ora in un'ora in un'ora in un'ora Dopo un'ora la nostra sceglia è scurta, quindi ora con una scuola lo cortiamo in grandi sceglia, come 12-14 sceglia. E dopo la scuola lo cortiamo e lo restiamo per aspettare altri 30 minuti. Dopo 30 minuti possiamo mettere la curva nella sceglia. I miei sceglia sono un po' brutti perché è non fabbato. Ho preparato la sceglia quando faccio il sceglia di stracchino. Poi mettiamo i nostri sceglia in un altro contenuto, come questo, perché il nostro sceglia ci resta molto di whey. Naturalmente lo guardiamo perché lo possiamo usare per preparare altri piatti. Probabilmente vi mostrerò un tipo di pane che puoi fare con il whey. ora andrò per mettere il sceglia nei nostri sceglia. E dopo, lascerò la temperatura per 4 ore. Vi vediamo dopo, per mettere il sceglia. Scusate, ma i miei sceglia, qui in Thailand, a volte non funzionano bene. Quindi ho deciso di dividere la mia curva, la parte che ho messo direttamente nei sceglia e la parte che ho messo in questo filtro di coffe. Quindi in questo modo ho provato due roti diversi per fare il sceglia. Da questo puoi imparare che se il sceglia non funziona e il sceglia non è perfetto, potete fare il sceglia, invece di mettere tutto il sceglia. Da questa curva ho un po' di un litro di whey. Ora lo metterò nel friggio e domani farò il sceglia usando il sceglia. Dopo 4 ore, alla temperatura di casa, possiamo eliminare il sceglia sotto le sceglia. Ora mettiamo un salto sul sceglia e lo mettiamo nel friggio. dovremmo aspettare 24-48 ore. Quando vediamo che il nostro sceglia è più caldo, possiamo provare a rinversare e mettere il sceglia sull'altra parte. Dopo due giorni nel friggio, possiamo rinversare il nostro sceglia. Ora che abbiamo aggiunto il salto anche da questa parte, lo mettiamo nel friggio per tre giorni. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Dopo tre o quattro giorni nel friggio possiamo mettere il nostro friggio nel friggio, se avete l'opportunità di creare questo tipo di friggio, potete farlo perché sarebbe più facile di stockarlo, perché i friggio normalmente sono alti. Ora mettiamo il friggio nel friggio e mettiamo i friggio nel friggio in un contenitore plastico perché dovremmo mantenere l'umidità del nostro friggio. Se avete un basso, potete mettere il friggio in un basso che ha 7, 8, 10 gradi di celsius. Se non, potete mettere il friggio nel basso del friggio. Oggi sono tutti i braci. Allora, potete mettere il friggio nel friggio. Sono tutti i braci. Iscrivito a cerco a cerco. Non ci sono stati messi da bollare. Non ci sono stati messi. Non ci sono stati messi. Non ci sono stati messi. Il friggio è molto più forte. Perciò sempre. Finalmente, dopo un mese, posso provare il mio cheese. Spettacolare, specialmente con questo pane e questo vino. Quindi ragazzi, vediamo la prossima volta. Ricordate di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like. Ciao, ciao.